Noi peri del mondo, hai scoperto di essere figlio di un padre che ama il tuo bene. Padre Altissimo e Cristo Francesco, un'immagine viva del Cristo, ora noi ti seguiremo, figlio, da di noi un Vangelo vivente. O Dio, fonte di perdono, che vuoi la salvezza dell'uomo, imploriamo la tua clemenza. Per l'intercessione della Vergine Maria e di San Francesco, concedi ai nostri fratelli e sorelle, vittime del Covid-19, di giungere a condividere la beatitudine senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e viveregna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e viveregna con te, che è Dio e viveregna con te, che è Dio e viveregna con te, che è Dio e viveregna con te. A Dio e viveregna con te, che è 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 Dio e viveregna con te, Grazie a tutti